Allora Giulio approfittiamo per commentare ora a mente fredda questo Giro d'Italia che ti ha visto protagonista a Cogna, protagonista sulla marmolata, quanto sei contento? È stato un Giro con alti e bassi, sicuramente la condizione non è stata quella ottimale al 100% però nonostante i vari problemi sono riuscito a tirar fuori comunque un bel Giro e tornare alla vittoria che era quello che desideravo di più. Quali sono adesso i tuoi obiettivi in questa stagione Giulio? Adesso tra non molto inizia il Tour e come avevo detto l'obiettivo è una vittoria di tappa al Tour e mi piacerebbe vincere nello stesso anno una tappa al Giro al Tour quindi niente, l'obiettivo principale è quello. Magari anche con la maglia può? Diciamo che non è l'obiettivo principale, l'obiettivo principale è quello di comunque aiutare la squadra, supportare e poi ritagliarmi un po' uno spazio per una vittoria di tappa. Ti chiedo un'ultima cosa, in futuro Giulio Ciccone riproverà a fare classifica al Giro? Ma ci vorrebbe comunque una condizione al top e soprattutto la salute che quest'anno non c'è stata, ecco quest'anno era l'obiettivo e abbiamo cambiato gli obiettivi per la salute quindi sicuramente in futuro ci riproveremo. Ma diciamo che mi do un 7 non di più perché comunque diciamo gli obiettivi erano altri e ripeto nonostante i problemi siamo riusciti a tirar fuori un bel giro e quindi dai un 7 è più che sufficiente. Grazie a tutti!